... 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 Entra! Vole! c'è scena molto troppo in teoria dove cacchio siamo dovremmo vedere vero dove siamo ma che sta cosa no ma che cosa no sì ma dove è l'illuminazione tipo solare vieni no per usare questo sennò è storto che cazzo che cosa fa dove è la desert boh l'ho trovato ok variato amiamo preferito di senatore armato certo perché non abbastanza armi tiro questo qua che mi piace col c4 che cosa stai ma no perché tu non sei non l'ho idea guarda fanno un po' di luce guarda no cos'è no guarda che luce che fa adesso guarda che luce ma sì che si illumina bene ma dai ora rimane il fungo sì ma questi edifici sono vuoti mi sa di sì dove sei tu ah qua ah ah stai scappando da me tu eh ti trovo ma sono fatto bloccato dove sei dovevo fare un'entrata in scena un attimo risolvo risolvo ecco ma ci sono due sotterranati comunque eccoti lol si usa questo ahia ahia aia 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 no 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 ah no con un'arma come quella io pure volevo fare tipo ecco cos'è cos'è mezza finestra ecco ti guarda la giù ti ricordi fermati lo c'è il palazzo si la giù sto arrivando ok vedo qualcosa che si muove tu che si muove si tu che sei volato tu sei volato via sono scherzo la macchina mi ha buttato giù dove è andata a fine la macchina ecco lì vabbè sono scherzato letteralmente via non è che sono di nuovo non riesco ad anche appena la macchina vieni vieni che cazzo come ho fatto mi porti da sopra grazie aspetta basta rischiamo di cadere boom aspetta veni entra un attimo nella macchina ma che è un attentato mi fai nooo questa cosa non ti fa oddio boom questa cosa non ti fa boom nooo qua ci sta troppo dai spara me la so con la sopra guarda aiuto dai sali aia ci sei tu sali qua dove sono come sono chi sono perché sei ci sono dalle strade c'è un ponte cos'è e poi dietro c'è pure un'altra cosa vedo luci ok andiamo a vedere qua si può uscire ci sono i cancelli perché si sente si si sente andiamo andiamo esploriamo ma no questa cosa nooo ah ti insegue a sette 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 per fare cosa fare tipo le capsule no nooo, guarda, che c'è tutte le capsule la slaga qua c'è stata una musica, tipo la musica del film ma che è sto fumo? è la macchina che è uscita fuori, no? un attimo, un attimo, un attimo, non entrare, non entrare, sta fermo sono uscito allora mi serve il propulsore, quello blu propulsore, questi qua blu dov'è la macchina? ho sbagliato, ho detto troppo ci sono le paleoliche ma c'è un'altra città no, un'altra città, c'è una casa guarda no, spesso arrivo c'è una casa con un megaporto, una megapiscina che cos'era? ma noi eravamo in una specie di carcere booo guarda ci sono altre cose comunque ma che sta facendo? guarda cosa c'è sopra? no ci sono io hai trovato il motore hai trovato il motore ora è due polosti ora è due polosti ora è due polosti dai pronto? vai! ora si guarda puoi pressione non vedo niente che? vai! ma io ti vedo invece ma che è sta cosa? no dove è quella casa? si le pale, è vero la pressione vero ahahah 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 hai fatto sballato 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 ehi c'è qualcuno qua sopra pia ma cazzo vai ehm è un buon pasteggio vum no ahahah parcheggiato cosa è? che? qua cosa c'è? cate vuote una panchina cosa? mi sento qua tutto rustico visto questo tutto un cammino un cammino al contrario no no sta cosa è punita ma dai poverino merda ci viene a scappare pure si poi ci sono paleoliche altre stanze probabilmente inutili si si oltre che vuoi tu che ah sei qua no non sono io sono tuo padre Luke io sono tuo padre no aspetta aspetta vedo Luke andiamo 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 ma no aspetta facciamo partire assieme come l'altra volta no prima dovevo fare sta cosa la vedi? la nooo che cos'è? 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 allora mi serve una macchina prendo questa prendo questa perchè è su una macchina ah puoi venire pure tu e certo ma vuoi scherzare st 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 fermo che devo saldare non sono io non sono io sei tu che spingi ah no è la tede addirittura che hai questa forza che spingi dai sale aspetta devo sbloccarla mi sa che mi sono trovato ecco vai ti senti comodo si 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 comodissima guarda vai non so vai vai no non di lì la serie di sotto non mi fa vedere ah ecco accelderà ma qua è dritto la discesa il aprirò 4 c'è no no dove dove sta? c'è un garage qua un porteregine apriamolo apriamolo con la nostra chiamo a universal E tu perdi tempo a craccare codi Ma che cos'è? Una porta aerea Vabbè che ci dovevo Ma no, che chi ha s'è chiusa E lo sai inventa l'altra E' stato tu? E' un bluetooth pulsante e si è chiusa Ok, boh Sì, percavo per tu Vabbè Che è sto coso? Cosa? Sto posto Che? La cosa qua che è? Sta specie di piramide schiacciato Vuota Ma dove sei? Qua, in questi posti strani Cioè? Io sono ancora là Segui la strada, ma è tutta così Ah, di qua Sto tipo semplice di Ah, semplice di Ah, quel coso Che è? Cosa? Una piramide maia e i gx Sì, vuota Ma si può andare anche dentro No, è vuota Sto vedendo cosa c'è, ma è tutto uguale Penso che sia una mappa Boh, ci andiamo da sto posto Beh, ci sta bene a qualt'arte, sto andiamo via Allora, diciamo No, non questo coso Lo prendo io? Che è? No, no, va, sì sì Verso l'infinito e oltre Eh, ora vediamo dopo Ma che è spenta? Ah, ecco Oh, non raggiungibile No, ho visto le luci spenta Che mi colpisce qua dentro? Aspetta Guarda cosa è questo? Scusa questo Che c'è, dove stai? Ah, non sei tu? Ma che cavolo Non va da entrare tardi Sta cosa Ahia, ahia No, no a me, no a me No, a lui, a lui, a lui No a me Ma andiamo Usa sta cosa qua Che cos'è? Questa cosa non... Aspetta, cos'è? Cosa? Direi che una po' Inter Sì, ma tipo una bussola Che è? Ma che ne so Boh Atom Accelerator Navigation mode Ah, beh, ho quasi setta Cioè, si può mettere la posizione a mano Comunque, beh, usa sta cosa qua Sto, specie di tv Monitor Si, ti do hai controllo Nooo, figata Vedi tutto sopra E perché? Entra, torna Guarda che è successo Che hai fatto? Non è da, mi sa che ho spento Però mi ricorda una puntata Oddio, è preoccupante Aiuto 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 a sentare la coscienza Cos'era quella cosa Libera la matrice Ecco, accendi qua Ok No, 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 no Io sono dentro il... Non andate tre tardi, addirittura Ma sono dentro il Dalek Che è? Togli il Dalek dentro Tardis È un'aberrazione Non ci sono mai entrate E ce le fai entrare tu Oddio, no, mai no Ok, andiamo via Pronto? Guarda qua Esci un attimo Che è? Ma no, dove sei? Dove sei? Ma dove sei tu? Dentro il Tardis Ah no! Che c'è? Non sei dentro il Tardis Sei dentro il Tardis Dentro il Tardis Quando dici tu, io mi siedo Ma andiamo via Andiamo dai No! Ma stavolta che l'abbiamo trovato per guardare tutto o manca dei pezzi qua? No, tutto, tutto Ok Sono sicuro che ho visto che c'era Dai, dai, dai Vado Vai Ciao